E poi ha anche una notizia di quelle un po' che, sapete, piacciono a me, un po' provocatorie, ma non tanto, di quelle che spesso io mi domando, non so voi, ma perché non c'è già? Ma perché noi siamo rimasti a un'idea di logica, di giusto, di vita, che poi ci rendiamo conto non è così. Quando poi qualcuno propone qualcosa che per noi dovrebbe già esistere da sempre, ci stupiamo. Ma perché non c'è? Ad esempio, proposta in Inghilterra che nelle carceri ci siano i lavori forzati, che si debba lavorare. Ma perché tenere? In Italia ci sono 50.000, non so quanti, carcerai. Cosa fanno dalla mattina alla sera questi carcerai? Niente. È una depressione, è un abbruttimento, è qualcosa di profondamente che lede la dignità stessa della persona. E poi, il lavoro forzato, cosa dovrebbe servire? Innanzitutto, ripetere i danni creati con il proprio reato. Perché il 90% delle persone che poi ha recato danno, ucciso, ha creato feriti, invalidi, ha rubato, si è impossessato, non restituisce niente, non paga nessun danno, non se ne fregano. Ecco, invece, se tu... è un fatto anche simbolico. Primo, passi il tempo in maniera più dignitosa per te, come essere umano, e poi tutto ciò che produci servirà in minima... Perché cosa volete? Uno dovrebbe lavorare per restituire della vita di una persona, può lavorare l'eternità, non riuscirà mai a fare qualcosa. Ma è un fatto di principio, che la famiglia che ha avuto un invalido, un ferito, un ucciso, un derubato, chiunque sia stato vittima di qualcosa, che sappia, ti arriva tutti i mesi, non lo so, 200 euro? Benissimo! Sono il risultato del lavoro che l'assassino, che il delinquente, che il condannato sta facendo. Avrebbe anche quello un valore positivo per chi fa così, riempie le sue giornate, positivo per chi lo riceve, perché così si sente un po', in qualche modo, diciamo, restituita la dignità, che spesso si perde, perché sappiamo poi come vanno a finire.